Al termine di una lunga e complessa attività investigativa durata tre anni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro ha identificato uno dei più influenti gruppi di hacker informatici operanti in Italia e dall'estero. Con la tecnica del camcording, registrando quindi film proiettati in prima visione nelle sale cinematografiche o serie tv su emittenti a pagamento, poi distribuivano in rete i video dopo averli elaborati ed ottimizzati a fine di ricavarne un profitto. Le indagini delegate dalla procura di Pesaro sono state determinanti nel collegare i responsabili del camcording alle loro identità digitali e soprattutto per ricostruire l'intera filiera distributiva dei video pirata. Gli investigatori si sono avvalsi dalla consulenza tecnica della Federazione Antipirateria Audiovisiva, FAPAV, ed hanno portato le fiamme gialle ad eseguire perquisizioni domiciliari in quattro regioni italiane, Marche, Piemonte, Lombardia e Puglia, con sequestri di PC, smartphone ed oltre 800.000 file. Quattro gli hacker italiani denunciati che si nascondevano dietro numerosi nickname. L'indagine è partita da Fano dopo la denuncia di un gestore di sale cinematografiche che, grazie all'ausilio dell'antipirateria, ha intercettato video pirati registrati proprio in una delle sue sale. La successiva analisi di quanto sequestrato nelle perquisizioni ha consentito di scoprire che i pirati informatici, dopo l'acquisizione dei film di successo e delle principali serie televisive trasmesse sui canali ed emittenti pay per view, curavano sia il montaggio che la codifica per il loro caricamento su server adeguatamente dimensionati. I file modificati poi venivano pubblicizzati su siti internet che, previo pagamento, utilizzando anche la moneta digitale Bitcoin o la Paypal, agevolavano il download illegale. Secondo il rapporto redatto dai consulenti della Federazione Antipirateria Audiovisiva, il gruppo di hacker individuato dall'FM Gialle denominato Free Incoming, si era affermato dal 2010 al 2016 come il principale gruppo di rilascio operante sulla scena italiana ed internazionale, anche grazie ai contatti avuti con gruppi esteri ai quali avevano occasionalmente fornito contenuti video illecitamente acquisiti nelle sale italiane, registrando abusivamente il 66% della quota totale di opere pirata in prima visione, immesse su internet. Di proporzioni inimmaginabili, nella misura di svariati milioni di euro, il danno recato alle case produttrici, sia in Italia che all'estero, dove spesso i film vengono proiettati dopo il mercato italiano, sia come mancato incasso al botteghino, sia come diritti d'autore e anche i diritti provenienti dalle piattaforme di distribuzione TV a pagamento, il tutto a fronte di pochi euro a film piratato che si intascavano gli hacker.